questo è un contenuto come sempre fatto più a freddo molto più a freddo rispetto il post partita di atalanta roma ve lo ricordiamo partita terminata sul punteggio di 3 a 1 con degli episodi molto molto particolari io vorrei commentare anche in parte le parole di murigno e poi onestamente parlando vorrei visto che non lo abbiamo ancora fatto dare un'occhiata a quello che è il calendario della roma per le prossime partite inserendoci in mezzo ovviamente anche le partite europee più che altro per considerare quella che potrebbe essere l'ulteriore stanchezza accumulata da parte dei giallorossi al netto poi dobbiamo tornare ai meriti degli infortuni ragazzi perché anche questa è una variabile che deve giocoforza essere analizzata una variabile impazzita purtroppo ciao ragazzi e ben ritrovati a tutti allora vi invitiamo semplicemente a lasciare mi piace per supportare i nostri contenuti calcistici vi ricordiamo che è gratis fatelo se vi fa piacere iscrivetevi e attivate la campanella se invece volete restare sempre aggiornati ogni volta che pubblichiamo qualcosa vi ricordiamo che abbiamo due canali di calcio non uno solo e un canale youtube extra calcio trovate tutti i canali comunque in infobox o durante il video come sempre compariranno qui murigno in realtà si è detto soddisfatto della roma ha parlato di episodi ha parlato di partita che si è decisa aspettate che li riprendo comunque stavi dicendo bene la partita si decide sugli episodi però da una parte capisco anche quelle che sono le dichiarazioni che rilascia murigno perché comunque cercare il pelo dell'uovo comunque andare contro la squadra ed evidenziare degli errori che possono essere stati più o meno fatti diciamo che in questo momento proprio non è quello di cui abbiamo bisogno quindi cerca ovviamente di proteggere la squadra da quella che è una sconfitta che rimette in discussione tutto per quanto riguarda la classifica e la zona champions seppur nulla è precluso nulla ci è precluso ovviamente c'è da dire anche questo ragazzi è una sconfitta che però ci lascia un pochino indietro siamo lì perché siamo lì però insomma è tutto da guadagnare è tutto in divenire assolutamente certo e hanno fatto la domanda se secondo lui la roma è stata meno brillante in questa partita e lui invece ha detto che praticamente è stato soddisfatto di tutti i suoi effettivi anche di quelli che giocano meno anzi soddisfattissimo se non mi ricordo male sono le parole che ha super soddisfatto sono le parole che ha utilizzato poi ha parlato ovviamente dei episodi però ha anche detto non voglio buttare le mani avanti non voglio giustificare non voglio creare delle scuse è pur sempre una sconfitta vanno dati i meriti all'Atalanta per la partita che ha fatto a livello di intensità poi ovviamente è una squadra che non ci accoppe e che comunque è una squadra che non è che ha tre punti in classifica in casa loro te può mettere in difficoltà è tutta la situazione tutto il complesso che va analizzato io guardo l'unica cosa che a me dà fastidio e che vorrei perché poi se guardi le altre big sicuramente a loro succede meno rispetto che a noi sono gli errori dei singoli no non credo sia questo per me dobbiamo migliorare in questo non voglio punta al dito l'ho già detto nel post partita non voglio puntare al dito a Rui Patricio ma a noi non succede a noi più no non succede più spesso secondo me non succede più spesso no succede più spesso perché ci facciamo caso di più la Roma è la nostra scuola del cuore chissà quante altre volte magari ma io eseguo tutte le partite a me non mi sembra non voglio non le vediamo con lo stesso trasporto non le eseguiamo con lo stesso trasporto a me non mi sembra per quanto seguiamo anche minuto per minuto a volte forse erano i più evidenti quelli nostri assolutamente non sono per niente d'accordo perché se tu parli con un tifoso dell'Inter ti dice voi ma che state a dire vede gli errori nostri stessa cosa del discorso del Milan li enfatizzo io ma certo è ovvio ma è normale è normale che così noi abbiamo a cuore le sorti dalla nostra squadra per cui qualunque minimo errore tendiamo ad ingigantirlo anche in buona fede lo facciamo non perché vogliamo per forza di cose andare a punta al dito contro qualcuno o qualcosa no no ma io mi sono stufato perché è proprio così io onestamente allora è naturale sono arrivato alla giornata 31 31 fatta sono arrivato alla giornata 31 che sto ancora a correre per il post on champions seppur attualmente risultiamo fuori poi ne parliamo nel contenuto dedicato da un'ora tranquilli perché arriverà anche quello certo però tu capisci bene che probabilmente no ripensandoci non sarebbe stato poi così impossibile ipotizzare una Roma fuori dalla lotta champions magari con qualche punto di distacco rispetto quello che avrebbero potuto fa Milan Inter e Juventus su tutte no sì e quindi comunque mi vedo la Roma ancora in lotta champions al netto di tutto quello che sta a succedere poi comunque mi è piaciuta tanto la reazione i 120 minuti di Coppa anche quella è una partita arrivati a questo punto della stagione per quanto poi a caldo ovviamente regà te vedi che fa il 2 a 1 te fa una papera te stranisci ok poi però ritorni un attimo sulla terra e devi analizzare un po' quella che è tutta la situazione quindi io comunque per il momento per l'obiettivo stagionale della Roma mi sento soddisfatto perché siamo ancora in corsa ovvio che in alcune situazioni ci abbiamo messo tanto del nostro forse non tantissimo in questa partita in particolare ci sono state partite in cui veramente noi ci abbiamo messo tanto del nostro però poi dobbiamo per forza di cosa andare a guardare quello che è il calendario perché secondo me arrivati a sto punto è anche importante andare ad analizzare quelli che sono i prossimi impegni e a me mi preoccupa cioè se io se io guardo gli scontri che ci abbiamo no è veramente veramente difficile il calendario è proibitivo guarda no allora no proibitivo no perché non andiamo a giocare sistematicamente ha fatto contro le prime sette della classe si ma non hai capito come si vanno ad inserire quelle che non so prime sette della classe negli scontri ma guardate posso dice molto peggio no molto peggio è un calendario difficilissimo cioè su una scala di 5 stelle è un calendario da 4 4 e mezzo e me da 5 no assolutamente non è un calendario da 5 nelle prossime tre giornate decidi se entri o non entri in Champions al 70% ma avresti deciso a prescindere dalle partite che facevi no dipende ma come no giochi direttamente e quindi dove sta scritto che poi pure se te battono tu sta scritto che quelle 4 appresso che c'hanno da giocare vinco non sta scritto da nessuna parte allora la prossima Roma-Milan che giorno è? non leggo 29 sabato 29 aprile quindi diciamo anche questo la Roma così come il Milan non avrà coppe nell'infrasettimanale a differenza ad esempio di Inter e Juventus e di Fiorentina e Cremonese che giocheranno comunque una semifinale di ritorno di Coppa Italia ma Roma-Milan arriva nel momento più assurdo e paradossale della stagione perché arrivi a pari punti arrivi con quel 2 a 2 dell'andata e arrivi per ipoteticamente ma non troppo ipoteticamente cioè è una cosa abbastanza fattuale che te giochi tanto giochi una fetta pesante di Champions League non è solo questo perché poi uno pensa cioè sono veramente delle montagne russe ma io vedo solo salita a discesa non la vedo ma non c'è a discesa la vedo solo quando finisce il campionato a prescindere da quello che succederà non puoi vedere la discesa perché pensare solo ad un'ipotetica discesa te freghi io non so i calendari delle altre squadre ma probabilmente io guardo la mia sinceramente io guardo la mia pure io ma se vado a guardare le altre probabilmente non hanno un cammino così difficile per chi sta a lottare come noi per la Champions League guarda non lo so ma sinceramente mi interessa ben poco perché io so solo che noi giochiamo la prossima diretta subito contro il Milan all'Olimpico e per carità la giochiamo in casa per cui per quanto può essere difficile una partita da 5 stelle magari te può diventare da 4 e mezzo però è sempre una partita tostissima contro il Milan ricordiamolo semifinalista da Champions poi c'è la trasferta contro il Monza nel turno infrasettimanale e poi dopo una settimana da Milan ah è infrasettimanale è infrasettimanale dopo una settimana da Roma-Milan con il Monza in casa con il Monza in casa una squadra che sta dimostrando veramente grandi cose che l'obiettivo l'ha raggiunto e che può solo che vuole migliorare e chiudere nel migliore dei modi e poi c'hai Roma-Inter e tu c'hai la pressione sempre in casa per fortuna forse ecco possiamo tra virgolette pensare che come noi dopo altri 4 giorni abbiamo una partita importantissima la semifinale d'andata dell'Europa League ce l'avrà anche l'Inter contro il Milan la semifinale d'andata delle Champions quindi turn over noi ok qualcosa sicuramente cambieremo contro l'Inter per forza delle cose che turn over vuoi fare che tu non c'hai più i giocatori eh ho capito che turn over ti vuoi inventare vediamo quello che sarà e quella la variabile no lo voglio dire l'Inter pure farà il turn over perché comunque se gioca contro il Milan non è che se spara tutti i migliori contro la Roma tu non puoi fare turn over tu i giocatori che c'hai li devi utilizzare perché sono gli unici che c'hai bisogna vedere chi bisogna vedere chi recupera quando recupera aspetta allora nel momento peggiore della stagione perché poi in conto raga sembra veramente una maledizione perché in conto è che dici no io capisco che gli infortuni avvengono a tutte le squadre no però in conto è che te ne avvengono magari tanti a inizio stagione o comunque distribuiti no un po' all'inizio un po' a metà un po' alla fine io non so se avete veramente fatto caso a quello che sta succedendo alla Roma negli ultimi dieci giorni due settimane ma è da sempre è così no no è da secoli che ci abbiamo sempre tutti gli anni però così tutto nel rush finale così tanti non mi sembra di averne mai fatti tutti insieme verso la fine con un calendario così difficile perché in conto dici te la puoi gestire perché c'hai che ne so Salernitana Spezia poi c'hai la Champions ma non vuol dire nulla non vuol dire nulla so partite che devi giocare che devi prende se che devi considerarle per quello che so partire dopo partita perché secondo me metti a fare programmini su quello che sarà quello che non sarà quanto è difficile una l'altra quell'altra ancora te mannampappa solo il cervello vai ai pazzi te mannampappa è quello che ti sto dicendo io sono entrato io sono entrato in quel loop io sono fatto così regà lui lui non ci pensa proprio tu è difficile che ti metti là a pensare a ragionare lui vive alla giornata io purtroppo non ci riesco non ci riesco perché poi comunque stai ancora in corsa per l'obiettivo stagionale della Champions stai ancora in corsa per l'obiettivo Europa League perché arrivati a questo punto uno ci vuole provare fare previsioni da qua alla fine del campionato che recita 4 giugno si mantieni l'ansia a vedere Roma-Milan Monza-Milan Roma Roma-Inter poi Roma-Bayern-Reverkusen poi Bologna-Roma Bologna tu guarda pare fatta apposta Bologna è una squadra che così come il Monza ha raggiunto pienamente l'obiettivo stagionale e può fare qualcosa in più e ci avrà la mente libera per farlo e in questo caso pure doppia trasferta Monza e Bologna ci avevamo più da perdere noi che loro perché loro ormai non ci hanno più niente da dire e quindi vabbè stando a quello che dici tu ti perdi tutti no non vinci con Milano e Inter non vinci con Monza e allora qua si ha fatto veramente dall'eccesso a un altro io non sto dicendo questo poi stando a quello che dici tu dopo Bologna-Roma c'è solo un lato negativo di questa cosa cioè non c'è un lato positivo dopo Bologna-Roma c'è un'altra volta l'Everkusen a ritorno e ovviamente poi in base a come si mette la partita d'andata tu devi gestire anche il ritorno Roma-Salernitana con la Salernitana per carità in casa ma con la Salernitana e te pensi che è facile giocacce? no infatti quello voglio arrivare pure a quello la Salernitana non sarà per niente per quello che stai pure gli scontri facili non ci stanno ma non esistono scontri facili dipende dipende dalle situazioni no non dipende dalle situazioni quando ti mancano sette giornate alla fine del campionato e ti stai a giocare ad un obiettivo non esistono partite facili può essere con la Juve può essere con il Napoli può essere con la Cremonese può essere con con il Pizzichettone preferisci giocare preferisci giocare con il Napoli o con la Sampdoria penultima o ultima in classifica che ormai a livello dei punti alla 35esima te la posso dire una cosa preferisco giocare contro le squadre forti almeno devi tenere per forza la testa alta e la concentrazione alta comunque chiudo il discorso con la Salernitana 36esima giornata Roma-Salernitana abbiamo visto quello che sta facendo Sousa abbiamo visto la dimensione che ha dato alla Salernitana la tranquillità della salvezza non dico quasi fatta ma sarà fatta sicuramente arrivati a quel punto della stagione poi c'è Fiorentina-Roma che comunque poi la entra in gioco ovviamente anche le situazioni della Coppa della Fiorentina per carità anche la Fiorentina ci avrà le coppe però è Fiorentina-Roma al Franchi una squadra che se rimessa in piedi lasciate stare l'ultima partita della Fiorentina al tracollo col Monza però è una squadra che ci tiene a chiudere la stagione nel migliore dei modi e Roma-Spezia che sicuramente dipende se lo Spezia sarà già salvo o se sta a lotta la salvezza in pietalotta fino all'ultima giornata te lo dico io per cui anche Roma-Spezia non lo so non so convinto di questa cosa però voglio far ragionamento tuo fosse salva potrebbe essere pure peggio affrontarla fosse salva no fosse salva probabilmente lo Spezia non ti scende manco in campo cioè probabilmente con la cavoccia stanno da un'altra porta stanno completamente da un'altra parte per cui quello che devono fare l'hanno fatto si rilassano e potrebbe non essere un problema ma io ti dico che lo Spezia quando lo incontreremo noi stanno con l'adrenalina cercate raccimolare gli ultimi punti che gli permettono di salvarsi probabilmente e poi ripeto dal 4 cioè da qua al 4 giugno fa un pronostico su qualunque cosa è impossibile è impossibile davvero però qualsiasi squadra di fate parlo soprattutto ovviamente per la corsa Champions quindi squadre dirette Napoli inutile Napoli ormai Champions League Scudetto è ok ma di tutte quelle che stanno in corsa Champions Atalanta è inclusa che calendario c'avete non c'ho voglia di andarmela a guardare o comunque poi se lo guarderò quando leggerò i vostri commenti voglio capire se secondo voi il nostro è uno dei calendari peggiori che potevamo avere o se voi ce n'avete uno peggiore del nostro per provare a prendervi a discapito nostro spero da no un posto in Champions ecco secondo me è un calendario veramente difficile molto molto tosto molto molto tosto soprattutto le prossime tre le prossime tre saranno veramente perché poi tu Roma-Inter la vai a giocare con la testa che dici comunque non gioco l'Everkjusen la semifinale di Coppa Italia come ho detto dall'altra parte di Europa League come ho detto dall'altra parte ti troverai una squadra che si deve giocare la semifinale di Champions quindi secondo me è pari a patta è pari a patta in un modo o nell'altro per fortuna posso dire per lo meno per fortuna per fortuna è una delle poche cose decenti che capitano te la giochi in casa e a distanza da pochi giorni entrambe le squadre hanno una partita ancora più importante dello scontro diretto io non aggiungo altro perché te giuro più parole aggiungo più mi viene l'ansia più non voglio dire altro ecco tu vuoi aggiungere qualcosa? direi che stiamo a posto anche perché le partite sono tante sono tutte difficili e per fortuna non dobbiamo giocare solamente noi anche le squadre contro cui giocheremo e non solo sul campo ma anche a distanza guardando la situazione dei classifici anche loro hanno un loro campionato un loro calendario grazie che sia più facile del nostro questo non si sa può essere anche più difficile perché poi le partite vanno giocate tutte quante noi pensiamo a fare il nostro quello che dobbiamo fare quello che dobbiamo fare poi quello che fanno le altre si vede poi io ti dico solo questo a me la cosa che più non metto per buttare le mani avanti perché poi lo sapete quello che succede succede non mi metto a piagna a fare ok però la cosa che più mi preoccupa a bocce ferme sono indisponibili sono infortunati no secondo me a me è quello perché se stai a pieno regime comunque dicevo te la vai a giocare a armi pare e quello che succede succede piano piano ce la fai no 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 io non so cioè sono un po' preoccupato perché ovviamente un po' di preoccupazione c'è ti mancano i cerati importantissimi però diciamo che se posso te recupera dai sono fiducioso ma alla prossima con un nuovo video ciao ragazzi ciao rica ciao rica ciao rica